buongiorno a tutti ragazzi buongiorno 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 caite spettatori di youtube sempre sono io il grande lorenzo brandoni e oggi siamo sul luna park vi presento oggi luna park della festa di san giorgio finalmente un po vabbè questa è piazza giorgio primi ceri dove una volta le giostre si sono posizionate nei vecchi anni le giostre si sono posizionate su questa parte su questo teatro il teatro comunale andiamo a vedere quelle le giostre che sono venute e soprattutto c'è anche una novità che però che vi farò presentare qui abbiamo tutta la parata qui abbiamo la parata delle giostre per i più piccoli delle attrazioni per i più piccoli come una questa è quella che c'era quest'inverno questa della giostre bimbi vai mantovani sempre da anni è stata sempre qua andiamo 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 beh qui abbiamo anche cose dei giochi quelle pistole e poi un p questo un altro un gonfiabile vabbè questo con la storia si cars da così con i personaggi del film di cars e be king sapendo king 7 m queen e quindi del p stop guido luigi poi flow ramon bello che fa le vernici eccetera eccetera questa è la mini calci purtroppo quest'anno non è venuta l'altra che c'era l'anno scorso quella è i calci in culo quella grande si chiama calci in culo questa si mini calci pure detta calci mini calci questo c'è sempre stata qua presente questa mini torre altro che è differente rispetto a tutte quelle altre questa è la mini torre è sempre venuta qui poi non ci sono più purtroppo non ci stanno più venendo i pali i pagliacci che c'erano nota qui queste questo è il mini tagata di gallipoli un'altra giostra gallipolina chiaramente qui c'è un piccolo torre il torre cristal che c'era nel 2016 la prima volta si vabbè le molli per il big jump da per fare i jumping si detto il cosiddetto grande grande salto eh sì 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 vabbè torri grandi altre gabbie per saltare avevi i mini torri qui c'è un bar andiamo da questo lato dai camminiamo su per questo marciapiede percorrendo il viale che ci porta adesso la banca dove lavorano i miei genitori questa è una nuova giostrina con l'acqua piccola giostra con l'acqua bo tipo che so giro giro tondo eh vabbè vabbè basta cantà vabbè questa è quella che c'era anche quest'inverno questo è il mini scooter è sempre da anni è stata ormai è presente questo è il mini scooter lo ripeto il mini scooter e dei fratelli marci messico poi abbiamo altri due giostri che sono che poi vedrete quando ci sarà il video sul lungo ma quando lo farò sul lungomare di gallipoli questi sono gli aeroplani eccoli quali è il show questo è questa poi troverete presto sul video del lungomare di gallipoli questa è il brucomela troverete nel quando farò il filmato quest'estate andiamo da questo lato attenzione quando sto dentro sempre alle vetture che sempre si possono parcheggiare non so le dette ai giostrai vabbè sempre gli aeroplani da 10 posti sono due posti chiaramente ecco il brucomela gli uomini al lavoro per sistemarla questo è il il turbo king mantovani lato scontro di gallipoli poi ci siamo quasi per gli ultimi film a pelle siamo nella parte finale del ragazzo è parte finale si vabbè questa la novità bon è nuovissima pure questa si chiama 5 di per l'anno scorso c'era il red bull quello con la livrea della red bull ecco infatti turbo king mantovani di gallipoli macchine macchine comprate dal dal nord d'italia da mantova praticamente per questo è il camion il centro e poi abbiamo le grandi aspettate non è finita aspettate 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 mi ho saltato una qua dietro si vabbè surf dance di cui di cui trovate il video invernale poi abbiamo le giostre dei fratelli marsico della tre delle delle dei fratelli marsico che poi trovate i video che ho aggiunto ieri che ho filmato domenica sera music express live la ballerina ci ho fatto anche un giro beh sì bella poi abbiamo vabbè questo avete visto questo c'è anche il filmato di cui trovate il filmato di questo inverno è il super tagata dei fratelli sempre della ditta marsico questo di antonio marsico proprietario della giostra questa è sempre venuta da un bel po di anni insomma sono dal 2010 che questa c'era amatino poi abbiamo dal 2013 dopo il frisbee in freestyle eccolo qua trovate anche il video che ho fatto e poi vabbè eccolo qua il brugomela che poi sarà montato su a gallipoli anzi sul lungomare volevo dire e poi novità di quest'anno trovate il video e questa qua signori e signori l'enterprise della famiglia della ditta bellucci di cui trovate di cui trovate il il filmato il videino della di domenica sera bene 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 con questo torniamo torno alla postazione dove ero prima ma anzi ci mettiamo di qua fianco un po' l'ombra delle gallipoline turbo king ve lo faccio sempre rivedere qua sto aggiustando il testa la coda della dottor beh questi sono gli aerei giro di rotondo andiamo a chiudere questo bellissima puntata episodio dopo trovate ovviamente vi dico vi ricordo che poi c'è anche il filmato delle giostre fatte in inverno e quindi signori e signori per il momento è tutto grazie per avermi seguito anche oggi è stato bello allora per il momento è tutto grazie per avermi seguito ragazzi e cari amici telespettatori questo è il luna park di matino 2018 e noi ci vediamo col prossimo video ciao ciao